che il signore ti benedica concludiamo con una breve preghiera insieme questa giornata e rinnoviamo il nostro affidamento al signore nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ti ringraziamo signore per questo giorno ci affidiamo a te per questa notte custodisci la pace nel nostro cuore rendici sempre più capaci di vivere per te e per gli altri ti affidiamo il futuro delle nostre famiglie e della nostra nazione ti preghiamo in modo speciale per tutti quelli che lavorano in prima linea nel combattere questa epidemia conservaci signore la serenità del cuore e la generosità nel nostro impegno gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen il signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica di onnipotente padre figlio e spirito santo amen